Una storia con personaggi veri, ambientata alla fine dell'Ottocento, nella terra di confine tra Molise e Abruzzo, terre all'epoca ancora unite, precisamente, aguglionesi. Padroni da una parte, servi dall'altra, classi sociali che in nessun modo potevano intrecciarsi, figuriamoci per un amore. Eppure l'amore non può seguire alcuna regola di appartenenza e quello di Umberto e Concetta scoppia e va oltretutto. Questa è Carneviva, titolo del libro di Nadia Verdile, scrittrice molisana che nei giorni scorsi ha fatto tappa proprio a Guglionesi, paesi d'origine del nonno, chiudendo idealmente il cerchio di una storia che parte dal racconto di Umberto appena nato e dato in adozione. Eleonora, la mamma esponente di un casato importante, aveva avuto una relazione con Ernesto, il maestro di piano, e poi ha dovuto separarsi da suo figlio, impazzendo dal dolore. Ernesto invece ha seguito la crescita di Umberto da lontano e con discrezione. Poi l'amore di questo giovane per Concetta e lo sguardo sull'America per un destino migliore. Quel ragazzo, figlio di un'epoca di stenti e di privazioni, ora è il nonno di tutti ed è tornato nel suo paese. È stata proprio Nadia Verdile a riportarlo a casa insieme alla figlia Daphne, nell'evento organizzato nel centro polifunzionale di Guglionesi, alla presenza del sindaco Mario Bellotti, del suo vice Giuliano Senese e del consigliere delegato alla cultura Michele Danselmo. Hanno ringraziato l'autrice di Carneviva, regalandole un simbolo, gagliardetto e spilla di Guglionesi. Un'emozione fortissima è il commento della scrittrice. Umberto è tornato laddove tutto è cominciato. È stato un cammino difficilissimo. Sembrava che i fili rossi non volessero mai incrociarsi. È tornato dove l'amore dei suoi genitori gli diede vita. Abbiamo in mente tante iniziative, tanti incontri da ripetere nel teatro e anche fuori nei prossimi mesi. Inizialmente Giorgio Gagliardi, che ricordo che in questi giorni è allestita una mostra sul primo reghi a Castellara, del centro.